Noi non abbiamo fretta, non abbiamo fretta, stiamo crescendo, loro sono tutti 2001, noi siamo tutti 2002, abbiamo un solo 2001 oggi, quindi questo mi deve far riflettere di quanto siamo forti e di quanto possiamo diventare forti in futuro, quindi come oggi ne avete stupito, cerchiamo adesso di divertirci in campo, di far vedere di che pasta siamo fatti, che cos'è questa squadra, che cos'è questo magico gruppo, aiutiamoci in mezzo al campo, siamo cresciuti tantissimo, continuiamo a crescere come state facendo e vedete che i risultati arrivano per forza, in questo mondo chi lavora, chi si impegna, chi diventa sempre più professionista, i risultati li centra sicuramente, ok? In bocca al lupo, buon divertimento, ok? Forza ragazzi, in bocca al lupo, crepi il lupo, per questo magico gruppo, Iki, URA, Iki, URA, Iki, URA, Iki, URA, i nostri ragazzi che si apprestano ad uscire, aspetta, mi esco prima io, che faccio, che vado in punto al corridore, prego, l'ultimo più, ecco, a pochi secondi inizia la gara, Ortona Calcio, Virtus, Castelfrentano, Grazie.